Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale, io sono Gigi e questo io è Robby Dopo il video dell'anno scorso della potatura della mia vite a cordone speronato ovviamente se ti sei perso il video te lo lascio qui sopra nei consigliati quest'anno andiamo a realizzare una potatura simile e la potatura che andremo a realizzare oggi punterà a far infoltire la mia pianta quindi ad avere più produzione io per queste piccole potature utilizzo le mie forbici elettriche a batteria ovviamente ti lascio il link qui sotto in descrizione come ho detto più volte il periodo migliore per potare la vite è fine febbraio-inizio marzo quando appunto le grandi gelate saranno ormai passate ora non perdiamo altro tempo e andiamo a potare l'anno scorso durante la potatura avevamo lasciato solo gli speroni che quest'anno come vedi si sono moltiplicati hanno avuto appunto due nuovi getti elati quindi quest'anno cosa andrò a fare? andrò a conservare questi due nuovi getti quindi lascerò due speroni piuttosto che uno su questo intero ramo ne lascerò sei la stessa cosa la farò per il resto della pianta come vedi ci sono già le nuove gemme andiamo a potare quindi eliminiamo la parte terminale che non ha nuove gemme in questo modo poi ogni vecchio sperone ne lasciamo due sempre conservando le ultime due gemme partendo dal basso in questo modo lo stesso qui e qui questa andiamo a rilegare sul supporto ecco fatto farò la stessa cosa da quest'altra parte quindi rimuovo questo due gemme due gemme qui qui invece ci sono tre getti quindi ne lascerò solo due ci siamo bene quindi questa era la mia potatura per infoltire la vite se ti sei perso gli altri video di potatura di mantenimento dell'albicocco e del fico te li lascio qui sotto in descrizione sul mio canale a breve troverai tanti altri video inerenti alla potatura dell'ulivo del fiorone di tanti altri alberi quindi ovviamente lascia un bel like a questo video iscriviti al canale e spunta la campanellina per restare sempre aggiornato io come al solito ti saluto ti ringrazio ti invito a seguirmi sui social che trovi qui sotto in descrizione e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video ciao ciao